Segnali per un 2014 all'insegna di una vera ripresa sono arrivati martedì dalla prima economia della zona euro. Scatto delle attività commerciali tedesche a gennaio con le esportazioni cresciute del 2,2% sopra le aspettative e le importazioni balzate del 4,1%. Un dato, quest'ultimo, che ha contribuito a ridurre l'imponente surplus commerciale a 17,2 miliardi di euro. Notizia positiva per Berlino, richiamata dalla Commissione europea a ridurre la dipendenza dalle esportazioni e a rinforzare la domanda interna perché gli squilibri non abbiano un effetto negativo sull'eurozona. Da un lato servono consumi tedeschi più robusti, dall'altro esportazioni più solide e investimenti sul modello spagnolo, ma per le parti d'Europa al di fuori della zona euro è decisamente positivo che la Germania osservi forti crescite nelle esportazioni. In effetti, lo scatto maggiore si è avuto dalle esportazioni nelle nazioni fuori dal blocco monetario, ma un aumento si registra anche verso Eurolandia, merito dei segnali di rilancio arrivati da paesi come l'Italia, a cui Berlino risponde calorosamente con un aumento dei prodotti importati.